ciao a tutti dal salutatore è appena terminato il premio caravaggio quarta edizione qui al castello del maschio angiolino mi trovo qui con cleventina petroni petroni è arrabbiata perché non mi ricordo se era con la e o con la i no è con la i però anche con la e perché va bene i miei cugini stanno con la e alla finale allora un saluto speciale tu sei proprietaria in parte del castello di ischia mio figlio in effetti è proprietario vivo lì al castello da moltissimi anni e quindi ho cominciato anche io sono artista diciamo però autodidatta ho cominciato con la ceramica poi con la pittura d'olio scrivo le poesie sempre per il diletto scrivo racconti opinioni sulla vita politica e sociale dell'isola e prose anche scrivo un po di tutto mi piace perfetto allora seguita lei sta un po sul social però prossimamente forse sono poco social sono poco però abbiate fede ogni tanto andate a cercarla cleventina petroni salutiamo tutti i tuoi fan ciao a tutti ciao non so se li ho i fan però ho tanti amici ed ecco qui la mi piace anche per te del salutatore sempre al nostro amico antonio salutiamo tutti ciao 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 Vieni a fare pure con Nicola, devo scappare qua, guarda sto con lui, grazie di questo saputo bellissimo, scusa Antonio, grazie di tutto, ciao, è tua, è tua, sì, mi devi scusare, mannaggia, se si arriva la signora prima, bene.